Le chiacchere possono essere molto noiose, ma è possibile trasformare quelle conversazioni quotidiane in qualcosa di profondo che ti permetterà di conoscere davvero l'altra persona e di connetterti anche con lei in maniera molto efficace. Ed ecco perché in questo video esploreremo quello che puoi imparare da alcuni dei migliori esperti di conversazione dei giorni nostri. Vedremo come passare dalle chiacchere a discorsi più profondi, così da non doverti più preoccupare di risultare noioso. Il primo punto prevede il far aprire le persone facendoli sapere che sei davvero contento di parlare con loro. Guarda ad esempio Joe Rogan cosa dice nella sua recente intervista a Lex Friedman. E questa cosa può essere fatta in modi diversi, direttamente come hai visto poco fa, oppure puoi anche semplicemente complimentarti sinceramente del loro operato, aggiungendo ad esempio che saresti contento di vedere o sentire altro da parte loro. O in alternativa puoi sempre esprimere direttamente il tuo amore verso quella persona. A prescindere dal modo in cui farai sapere alle persone che le apprezzi e che le ascolteresti per sempre, in questo modo le stai spingendo a buttarsi nella conversazione. Ora, potresti pensare che il dire di essere felici di interagire con una persona è qualcosa di ovvio, ma ti assicuro che non lo è. Molti di noi, infatti, fanno quello che Howard Stern ammette di aver fatto all'inizio della sua carriera, ovvero nel tentativo di ottenere rispetto ci comportiamo come se fossimo disinteressati, oppure non impressionati quando parliamo con delle persone. Cerchiamo di limitare la nostra gioia per non apparire inferiori rispetto a chi abbiamo di fronte. Howard, per esempio, non si informava sui suoi ospiti per affermare la propria superiorità, per far capire che non sapeva nemmeno chi fossero. Va detto che fare il superiore e il disinteressato a volte può ispirare le persone a lavorare per la tua approvazione, ma non ti permetterà di passare dalle chiacchiere a qualcosa di profondo, perché le persone devono saper di poter ricevere il beneficio del dubbio se condividono qualcosa di imbarazzante o vulnerabile. E con il classico tipo figo non è così, non è decisamente la persona adatta. Allora, ne riparleremo anche più avanti di questa cosa, ma torniamo un attimo alla parte iniziale di questa conversazione. Se vuoi passare dalle chiacchiere ad una connessione, devi dirigerti di proposito verso un contesto di conversazione più profondo. Sappiamo tutti che le chiacchiere tendono a rimanere su contesti come il meteo, le notizie, il lavoro oppure la politica. Ma la cosa fantastica è che praticamente qualsiasi di questi argomenti può portarti ad un contesto più profondo e lo puoi fare con una domanda molto semplice. Passare dagli aspetti specifici di una situazione al modo in cui quella situazione ha fatto sentire qualcuno crea immediatamente più opportunità per una connessione su cose realmente significative. Ovviamente non devi ripetere a memoria questa frase, ma dovresti fare in modo di spostare la conversazione verso i sentimenti, le motivazioni oppure i valori. Ti faccio vedere un altro esempio, guarda qui. Tieni bene a mente quello che sto per dirti, le persone non saranno sempre ben disposte ad aprirsi con te sui loro sentimenti, motivazioni o valori. Ed ecco perché questo terzo consiglio è così utile e si chiama ripetere a pappagallo. Si tratta semplicemente di ripetere le ultime parole appena pronunciate da qualcuno. Senti qui. E tu puoi fare la stessa cosa agli inizi di una conversazione quando le persone condividono con te i loro studi o cosa fanno per lavoro. Ripetergli il loro titolo o la loro laurea con un interesse sentito può convincerli ad elaborare e parlare di ciò che apprezzano del proprio lavoro o perché l'hanno scelto in partenza e da lì potrai muoverti con successo verso i sentimenti e le motivazioni con un semplice trucchetto che ci porta direttamente al quarto punto ed è qualcosa che pone una certa sfida per molte persone. Devi capire che quando riesce a far aprire le persone queste potrebbero condividere qualcosa di cui non vanno poi così fiere e in queste situazioni deve evitare tassativamente di giudicarle. Guarda Howard che si comporta da vero e proprio difensore delle cose di cui i suoi ospiti si vergognano di aver provato o fatto. Come esempio prendiamo Sherry Stiron che ha rivelato che quando era giovane un produttore di Hollywood l'aveva molestata durante un casting nella sua casa e anche se le sarebbe piaciuto mandarlo a quel paese si era spenta emotivamente e se ne era andata di nascosto. Howard l'aiuta effettivamente a dare un senso alla sua reazione nella prossima clip, guarda. E allo stesso modo Howard anticipa la gelosia che Lindsay Lohan deve aver provato dopo che le altre attrici hanno ottenuto ruoli che avrebbe potuto avere lei. Quando vedete una Emma Stone che ha un parecchio simile a te, o diciamo Jessica Chastain, posso dire che hai pensato questo. Quando vedete alcuni di questi film, non senti qui e pensi che posso fare questi film, certo? Sì, sì. Deve che ti fanno freddo! Il punto qui è che siamo tutti insicuri, gelosi, egoisti o preoccupati di quanto facciamo credere di noi in una conversazione. Siamo portati a nascondere queste parti di noi perché crediamo sia necessario essere apprezzati da chi abbiamo di fronte, ma per connetterci profondamente con qualcuno dobbiamo rimuoverci le maschere che usiamo per essere solitamente accettati. Quando questo avviene, non devi dire all'altra persona di rimettersi la maschera dicendo cose come, ma come hai potuto farlo? Oppure io non l'avrei mai fatto una cosa del genere. La risposta migliore in questi casi è fare una pausa e prenderti un momento per riconoscere il suo coraggio quando qualcuno diventa vulnerabile. Joe Rogan, ad esempio, lo fa con un veterano di guerra che parla molto nel dettaglio delle sue ferite di guerra, di ciò che gli hanno causato sia fisicamente che emotivamente. Quindi, nella tua vita, prima di reagire immediatamente o dare consigli in questo tipo di situazioni, riconosci semplicemente il coraggio di qualcuno come prima cosa. Questo ti aiuterà davvero tanto a creare una connessione. Fino ad ora tutto ciò di cui ci siamo occupati ha avuto a che fare con l'incoraggiamento per far aprire agli altri e per farli connettere con te. Ma se vuoi davvero ottenere delle interazioni più profonde, non puoi aspettare che siano le altre persone ad essere abbastanza coraggiose ad aprirsi, ma devi farlo tu per primo. E significa rivelare le tue vulnerabilità e verità imbarazzanti anche quando non sai come verranno accolte. E devi sapere che Howard è molto bravo in questo campo. Negli anni ha parlato di tantissimi dei suoi problemi personali in radio, dalla sua insicurezza, alla gelosia, dal suo aspetto fisico, includendo dettagli sulla sua parte più intima, più piccola della media, come dice lui. Quindi, quando arrivano, gli ospiti sanno di non essere gli unici che si esporranno al giudizio del pubblico, siccome Howard improvvisamente dirà cose come... Quando gli ospiti poi vedono Howard, che continua a presentarsi e sorridere, dopo che ha fatto conoscere al mondo le sue insicurezze più profonde e i suoi attuali problemi, si accorgono di potersi aprire a loro volta. Anche davanti ad un enorme pubblico, e anche se si tratta di qualcosa di cui non hanno parlato pubblicamente. Come quando Paul McCartney ammise con nonchalance che aveva causato lo scioglimento dei Beatles. E per la tua vita il consiglio è semplice, eppure può essere molto difficile da attuare. Ed è, quando stai chiacchierando e ti viene fatto ricordare qualcosa di imbarazzante, non filtrarlo. Condividilo senza cercare una reazione specifica dal pubblico. Quando sarà ovvio che sarai onesto e senza pregiudizi sui tuoi errori, sarai scioccato da quanto velocemente le persone si uniranno alla tua onestà. Ovviamente questa cosa è molto più facile a dirsi che a farsi, e Howard ammette di poter gestire molte di queste abitudini solamente dopo anni di psicoterapia. E devi sapere che questo percorso gli ha dato la possibilità di essere onesto sui suoi difetti e il suo apprezzamento per gli altri, di cui abbiamo parlato anche nel terzo punto. E la terapia può essere fantastica, ma ovviamente ci vuole tempo e denaro. Quindi, se l'abilità dell'essere più aperti è qualcosa che ti intriga, questa domanda finale è qualcosa a cui pensare molto bene. Sei personalmente in contatto con quella che è la tua ombra? Quei pensieri e sentimenti che spesso sono rifiutati dalla società e dal nostro stesso ego? Ti sei davvero confrontato con la tua rabbia, gelosia, giudizio, dolore o vergogna? Oppure le hai relegate in un angolo per andare avanti il più normalmente possibile? Se non sei in contatto con tutto ciò che sei, il buono e il cattivo, non potrai connetterti profondamente con le persone perché indosserai sempre una maschera. In questo caso le tecniche non saranno abbastanza per uscire dalle chiacchiere e troverai più rassicurante quasi l'essere noioso. Ma non è tutto. Probabilmente vivrai con una certa ansia di fondo per cui una parte nascosta di te possa essere rivelata e sarai allontanato a causa di essa. Quindi ti consiglio veramente di pensare bene a quella domanda perché è davvero molto importante. Ora, lavorare su queste cose richiede molto tempo, ma se cerchi il modo più veloce che conosco per aumentare la tua sicurezza e il tuo carisma, potrai ottenere dei grandi risultati con il nostro corso principale, la Carisma University. E per chi non sapesse cosa sia la Carisma University, non è altro che il nostro percorso guidato di 30 giorni che vi porterà ad essere quella persona che sta al centro di ogni conversazione, mettendo in risalto la vostra versione carismatica. E se pensi per caso che il carisma non si possa allenare, senti queste testimonianze e poi clicca sul link per la CU che ti spieghiamo anche il perché il carisma può essere allenato. Il primo arriva da un ragazzo che ha visto grandi miglioramenti nella sua vita sociale e amorosa e dice, mi ha cambiato la vita. In sei settimane sono passato dall'essere uno studente socialmente goffo con pochi amici ad essere la vita di ogni evento a cui partecipo. In più, sono passato dall'avere problemi seri con le ragazze all'uscire con la ragazza dei miei sogni. La prossima persona aveva dei problemi a livello sociale e ha visto grandi miglioramenti dopo la carisma university e dice, per quasi tutta la mia adolescenza sono stato introverso, timido e avevo atteggiamenti difensivi nelle interazioni sociali. Ora sono più sicuro nelle situazioni sociali e posso parlare con chiunque di qualsiasi cosa. Riesco a controllare le interazioni anche nella mia carriera e sono semplicemente più felice. Queste erano alcune delle testimonianze dei ragazzi della CU, quindi non ti resta che cliccare il pulsante che compare ora per saperne di più e spero veramente che questo video ti sia piaciuto. Ciao e ci vediamo nel prossimo video!